Quanto sono importanti le professoresse quando bisogna insegnare? Beh, sono molto importanti perché ci danno la grinta e ci incoraggiano a fare questi lavori, questi laboratori e comunque ci danno la possibilità di farli perché senza di loro non avremmo fatto niente. Classe capovolta significa che siete voi in realtà i protagonisti di questo processo, queste lezioni? Sì, diciamo che abbiamo fatto noi proprio tutto il progetto, la prof ci ha dato un argomento da sviluppare e noi l'abbiamo sviluppato al nostro meglio su PowerPoint e sulle diapositive.